Siamo a commentare una vittoria incredibile, abbiamo vinto dopo un supplementare di un punto, è stata una partita molto equilibrata, abbiamo coronato una rimonta di sei mesi, siamo stati ultimi in classifica tutto l'anno, e oggi eravamo sotto tre punti a sette secondi alla fine, i ragazzi sono stati veramente bravi, Rugol è stato bravo, ma soprattutto la squadra ha fatto un ulteriore salto in avanti dal punto di vista della maturità, ha giocato una partita con grande carattere, con grande orgoglio e ha vinto in un contesto molto difficile contro una squadra che aveva un tifo molto caldo, corretto, però abbiamo giocato senza il cronometro, è stato un contesto molto difficile, la nostra mente è sicuramente rivolta al play-out che dovremo giocare con San Giorgese, perché abbiamo fatto tantissimo, ma non abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, siamo molto concentrati su questi play-out che giocheremo San Giorgese, e sappiamo essere un avversario molto difficile, però abbiamo dimostrato anche stasera che ce la giocheremo fino in fondo.